Dalle truffe informatiche alla diffamazione sul web, dalla clonazione di carte alla pedopornografia online, aumentano anno dopo anno i pericoli in rete, ma cresce anche di oltre il 100% il numero delle persone denunciate dalla Polizia Postale di Arezzo dai 60 del 2018 agli attuali 125. È stato infatti un anno rivolto principalmente alla prevenzione e al contrasto della criminalità informatica, quello del corpo, in un panorama sociale dove ormai l'innovazione tecnologica incide notevolmente sul quotidiano di tutti. Numerose sono state le attività di perquisizione nell'ambito della pedopornografia e pornografia anche in collaborazione con la squadra mobile di Arezzo che hanno portato al sequestro di copioso materiale informatico e alle denunce all'autorità giudiziaria sia di minori che di adulti. In esponenziale aumento nel territorio provinciale e aretino anche il financial crime attraverso l'utilizzo di malware da parte di organizzazioni criminali che si intromettono nei rapporti commerciali delle aziende veicolando somme di denaro in conti correnti nella disponibilità degli stessi malviventi. La Polizia Postale di Arezzo è impegnata infine da diversi anni in attività di sensibilizzazione e prevenzione sui rischi e pericoli connessi all'utilizzo della rete internet dedicate soprattutto alle nuove generazioni, un'attività che ha permesso di incontrare oltre 1.400 studenti, 120 genitori e 118 insegnanti nella città e nella provincia aretina.